Tu hai distrutto la Gilda, non fare tanto il gradasso! Ora smettetela! Per me... non è più un problema. Semi di fuoco! Knuckleplant! Alleali celesti! Spiegaci le tue intenzioni. E così lui sarebbe quello che ha causato tanti problemi alla mia Gilda. Ora basta, Luxus! Però Gajil non ha nemmeno provato a difendersi. Fermati, Luxus! Basta così! Capace! Gajil! Può bastare adesso. Ho del lavoro da fare. 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 Grazie.